Come da tradizione, anche quest'anno Aprica ha aperto le porte agli appassionati degli sport invernali. Sabato 30 novembre, gli impianti di risalita hanno iniziato a funzionare, dando il via ufficiale alla stagione sciistica. Nonostante le nevicate non siano state abbondanti, l'efficiente lavoro dei cannoni sparaneve ha permesso di preparare piste in ottime condizioni. È iniziata col botto, siamo andati bene, siamo riusciti ad aprire la montagna più importante, la Palabione, la centrale, siamo molto avanti anche per aprire le altre montagne, diciamo la Magnolta che come sapete è nuova. Abbiamo avuto un buon risultato anche in funzione ai numeri perché abbiamo fatto 2000 ingressi. L'obiettivo è di aprire gli altri impianti il 7 dicembre e a Natale presentare tutto il comprensorio finito. All'inizio della stagione è bello sciare, si ha tutti voglia di sciare, qualche volta ci si lascia andare con un entusiasmo che supera le nostre capacità, per cui con calma si comincia, si fanno alcuni giri, alcune sciate in piste magari un pochino più facili, per poi se ci rendiamo conto di essere all'altezza magari usiamo qualcosa in più in piste un pochino più difficili. Sia i principianti che gli sciatori esperti potranno così godere di un'ampia varietà di percorsi, dalla facile pista blu alla impegnativa rossa. Benissimo, mi sento molto bene, la neve è bella, anche se in poti ci sono troppi grumoli. Mi trovo bene perché stanno i miei amici. Per Natale l'obiettivo è di avere Palabione, Magnolta e Baradello pronte con le discese attive fino in paese. Cercate di ritagliarvi un weekend e di venire su con noi a sciare, dai vi aspettiamo. Sinceramente ho trovato le condizioni molto positive, nonostante le difficoltà e le perturbazioni che non ci sono state, ma la neve è veramente speciale. Noi sull'altro impianto che abbiamo qua di Magnolta, tutto l'impianto è stato rifatto in previsione anche delle Olimpiadi e in teoria dovrebbe esserci anche un progetto su questo impianto. Hanno fatto un ottimo lavoro per l'apertura di inizio stagione delle piste, hanno sparato la neve, le temperature gliel'hanno permesso, neve bella tirata lucido, pista in ombra, quindi condizioni ottime, veramente bello.